Incidente nella serata di giovedì 22 dicembre, poco prima delle 21, alla rotonda di Visignano, frazione di Rivarolo Canavese. Una Fiat Panda con a bordo una coppia sulla settantina è uscita di strada, abbattendo completamente le barriere che delimitano il marciapiede e ribaltando Sella Trotonda. Sul posto sono intervenuti in ambulanza 218 i carabinieri di San Giorgio Canavese. La coppia, dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Il sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti.